L'attrice francese Juliette Binoche ottiene un riconoscimento alla carriera al sedicesimo Festival del Cinema di Zurigo. Già premiò Oscar, la 56enne parigina ha ricevuto il Golden Icon Award, in passato assegnato a personaggi del calibro di Cate Blanchett, Glenn Close ed Arnold Schwarzenegger. Per l'attrice la pandemia si è rivelata un periodo positivo a livello personale. Ho lavorato tanto prima e volevo prendermi una pausa, dice, quindi è stato un lasso temporale perfetto per me, perché potevo fare altre cose, cucinare per i miei figli, prendermi cura di mia madre e leggere. Ho passato molto tempo a leggere perché quando lavoro non ne ho sempre il tempo. È stato quasi come un lusso. Tante le pellicole che hanno visto protagonista la Binoche, tra cui Il paziente inglese e l'ancor più celebre Chocolat. È la prima volta che la più alta onorificenza del Festival del Cinema di Zurigo viene assegnata ad un'artista transalpina.